narciso parigi era il labaro viola che lui ha cantato nella canzone famosa per la fiorentina era una bandiera di firenze era un un fiorentino di della specie buona quelli sorridenti quelli aperti non quelli criticoni che rimuginano perché ci sono noi fiorentini sono divisi in due categorie quelli aperti e quelli criticoni che i rimuginanti invece il buon il buon narciso al di là dello squisito interprete dello squisito e artista che era era un fiorentino doc che metteva il buon umore un fiorentino che ti raccontava con una risata piena anche le controversie della vita io quando mi hanno dato l'opportunità di fare il primo film l'ho subito chiamato perché mi piaceva che un un film i laureati di 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 matrice così toscana avesse uno dei suoi interpreti più più significativi toscani e fiorentini e mi ricordo che anche lì si contraddistinze contraddistinze per per la sua fiorentinità aperta perché era un ruolo bellino ma non era un ruolo lungo per cui io la presi larga gli dissi grande narciso mi piacerebbe sarebbe un onore qualora dimmi dove devo venire mi disse che devo fare come dire ven via se c'è da divertirsi ci si diverte e mi piace piacere mi piace piacere perché questo suo atteggiamento e sottolineò quello che io avevo sempre pensato che era un ganso come si dice noi a Firenze che era una persona intelligente attenta era un grande ho passato dei pomeriggi a casa sua a vedere questa 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 sua intuizione perché quando nel dopoguerra la gente non c'aveva da mangiare lui aveva capito che i quadri potevano essere anche al di un ottimo investimento un'occasione di crescita personale professionale e culturale e aveva dei quadri importanti che ripeto laddove in un periodo particolarmente difficile la gente pensava insomma alla sopravvivenza lui si pensava alla sua sopravvivenza ma pensava anche a lasciare qualcosa come credo assolutamente sia sua intenzione con tutti questi queste opere importanti che lui ha di lasciarle a chi le vorrà vedere con un museo insomma mi parlava sempre di questo museo mi auguro anzi che sia fatto sarà uno dei primi a andarlo a vedere grande narciso labaro il nostro labaro grazie grazie grazie